Don Quixote era pronto con la sua spada e con il suo cavallo. Ah, avrebbe vissuto chissà quali avventure. Ma gli venne in mente che aveva dimenticato una cosa fondamentale. Per essere davvero cavalieri ci vuole un'investitura, una nomina. E quella può darla solamente un re. Dove lo trovava Don Quixote un re? Intorno a lui c'erano locante, ristorante, alberto. Nella sua mente Don Quixote pensò che quella locante fosse un castello. Tanto era forte il suo desiderio. Sì, un castello. E se c'è un castello c'è certamente un re. Ah sì, avrebbe potuto avere la sua investitura. Povero Don Quixote. Il locandiere e la servitù si presero a gioco di lui. Gli diedero l'investitura come se fosse stato davvero un cavaliere. Ma in realtà gli diedero un sacco di botte con la mazza per lavare per terra. Cominciano così l'avventura di Don Quixote. Grazie. Grazie.